Il solaio di copertura dell'edificio di congiunzione tra la settecentesca villa favorita al corso Resina d'Ercolano e alcuni palazzi adiacenti, opera dell'architetto Fuga, è crollato senza creare però feriti, a generare il distacco di alcune componenti architettoniche, secondo i vigili del fuoco, sarebbero state le piogge degli ultimi giorni. Sul posto i pompieri e il personale dell'ufficio tecnico comunale e gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada al traffico veicolare. Nelle prossime ore ad Ercolano arriveranno anche degli studiosi di architettura a verificare le condizioni degli edifici adiacenti. In 48 ore sono stati circa 350 gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e in provincia per alberi crollati, frane e infiltrazioni, danni in oltre 30 scuole, strade chiuse, intanto notte in una scuola per i 100 sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case dopo la grossa voragine che si è aperta nella notte tra martedì e mercoledì in via Masoni nella zona dei Ponti Rossi. Le persone evacuate hanno passato la notte nella palestra della scuola Nicolini di Giacomo come ha reso noto la terza municipalità di Napoli.